Una nuova dimensione di ibrido. Un nuovo modo di viaggiare. Controllo su strade che non pensavi di esplorare. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next level SUV. Aperti per te anche domenica. Il Festival di Sanremo sceglie Suzuki. Aperti per te.